Lo hanno trovato impiccato a una trave nel deposito di casa, una scelta estrema dettata, secondo quanto hanno riferito i familiari, dalle disperate condizioni economiche in cui si trovava. L'imprenditore attendeva crediti per 500.000 euro da aziende per le quali aveva lavorato e che però non riusciva a riscuotere. Per questo sarebbe caduto anche in un grave stato di depressione, solo l'ultimo di un lungo elenco di casi simili che, peraltro, sono in aumento non solo in Sicilia ma in tutta Italia e che adesso, proprio mentre la questione dei pagamenti delle imprese da parte della pubblica amministrazione riaccende lo scontro a Lars, provoca la dura reazione delle associazioni di categoria. Come Lance, che parla di un genocidio silenzioso, qualche giorno fa un imprenditore si era ucciso in provincia di Messina, dice il presidente costruttori di Palermo, Fabio Sanfratello. A dicembre si era tolto la vita un operaio di Borgetto, ci chiediamo ancora quanti morti il nostro comparto debba registrare. Siamo stanchi di parole, aggiunge, vogliamo fatti concreti come, ad esempio, liquidare tutti i debiti della pubblica amministrazione verso centinaia di imprese che ormai aspettano da anni. Servono misure straordinarie, dice invece la CISL, come un piano speciale della regione e dei comuni per rilanciare il lavoro produttivo sul territorio, a partire da un programma per gli interventi nel settore dell'edilizia scolastica, per la messa in sicurezza degli edifici pubblici, come gli ospedali e con un elenco dettagliato di opere pubbliche da inserire nel piano triennale dei comuni da avviare subito. Dura anche la posizione di confartigianato, non si può andare avanti senza regole certe, dice il presidente regionale Filippo Ribisi. Invece le istituzioni litigano come meglio ritardare il pagamento dei debiti che gli enti locali hanno verso le imprese e ora conclude di dire basta.